Campagna di sensibilizzazione e diffusione di un numero preposto per raccogliere segnalazioni ed emergenze e continuazione del lavoro di indagine e potenziamento della toponomastica locale. Sono questi i provvedimenti individuati dal sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara e dirigenti di Poste Italiane Salerno. In un incontro tenutosi alla Casa Comunale sono state discusse le criticità della consegna della corrispondenza e trovate immediate soluzioni per risolvere un problema che ha assunto in questi mesi carattere di emergenza. Un confronto che così ha commentato il primo cittadino. Abbiamo portato a casa dei risultati importanti. In primo luogo i ritardi sono dovuti ad imprecisioni o errori negli indirizzi indicati ai fornitori, alle banche o ai privati. Per questo abbiamo concordato di avviare una fittissima campagna di sensibilizzazione. Non per ultimo sarà attivato un numero a cui ciascuno potrà riferirsi per fare segnalazioni ed indicare problemi. Continuerà il lavoro già iniziato dalla seconda commissione permanente per approfondire lo studio della toponomastica cittadina ed individuare nuovi indirizzi all'interno del territorio. Questo iter programmato d'intesa con i rappresentanti della posta S.S.P.A. che ringraziamo per la presenza e la collaborazione.